Stessa storia, stesso posto, stesso parquet. Come nelle ultime due stagioni, la pallacanestro Varese è chiamata a vincere in casa la penultima giornata di campionato per salvarsi. L'avversario di turno è la Nutribullet Treviso, che arriva a Masnago con le stesse ambizioni, in un match, quello di domenica 28 aprile alle ore 18.15, che si preannuncia caldissimo. Varese recupera Occhè, fermato da un problema influenzale ad inizio settimana, ed Ulaneo, ai box contro Sassari per una botta subita contro Scafati, ma soprattutto ritrova il calore del pubblico di Masnago, vero uomo in più di un Open Job Metis che non ha più intenzione di rimandare alla festa di fine stagione, per la permanenza in LBA.